Molto buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Questo video per me è molto molto importante Ecco perché sono venuto qui Nella villa che è secondo me l'habitat naturale perfetto Dove è nato il veicolo che ho qua sotto le mani Chi di voi mi conosce sa che nel mio canale solitamente prendiamo in mano roba già rotta Da sistemare, da riciclare E quindi andiamo a vedere tutti i difetti vari che ci sono in corso d'opera Solitamente non mi capitano mezzi nuovi Questa ditta invece è molto innovativa Ha deciso di contattarmi perché gli produca dei video Ogni codice errore di questo veicolo Un video per spiegare come andarlo a risolvere Per cui è sicuramente innovativa Immaginatevi che quando uscirà questo veicolo Comunque sia le istruzioni qualora si dovesse rompere qualcosa Sarò io che parlo e che vi spiego come sistemarle Per cui niente da dire a livello di innovazione top Non posso dire diversamente È un veicolo che però non mi hanno pagato Per cui questo video non è sponsorizzato in nessuna maniera I video per cui mi hanno pagato sono quelli in cui spiegherò come andarli a riparare Ma non ci vedo niente di male nel senso che comunque sia Non è che sto dicendo cose che non sono vere Andrò a spiegare come andarlo a riparare Per cui non vedo assolutamente nulla di sbagliato Quindi oggi ho questo veicolo E sebbene la ditta non me l'abbia chiesto Io vi farò un video dove andremo a vedere insieme Cosa c'è dentro, cosa troviamo nella scatola Come funziona E perché secondo me questo è il suo ambiente naturale Come si può vedere non ho la mia solita maglietta Riciclo C'è un motivo Ma ve ne parlo dopo Andiamo ad aprire questo palco perché veramente non sto più nella pelle Come vediamo e come sicuramente avrete avuto modo di vedere Dal titolo del video Stiamo parlando del meccanè Kronos X E vediamo che arriva con un packaging Quindi imballato Veramente molto bene Che anche se viene ribaltato Non gli succede assolutamente nulla Perché tutti i componenti sono ben stati bloccati E quindi è tutto fermo E si nota subito A prenderlo così Che la pedana è in legno Ecco perché secondo me Questo è il suo ambiente naturale Quaggiù troviamo una scatola Con un sacco di codici QR code Con vado bene C'è scritto bene QR code per attivare l'assistenza QR code per i social e il sito E QR code per attivare la garanzia Quindi ancora una volta questa azienda Si dimostra molto molto innovativa Mostrandoci appunto Che l'attivazione di tutti questi servizi Viene attivata attraverso un QR code Prima di andare ad aprire il monopattino Troviamo che all'interno della scatolina Troviamo questo qua giù Che il team ti ringrazia dell'acquisto Che io lo apprezzo sempre tantissimo Perché mi fa capire che comunque sia L'azienda è in contatto con te in qualche modo E peraltro rimani connesso ancora QR code E ancora QR code Sì molti QR code Forse abbiamo un po' superato il tempo del covid Però io li apprezzo davvero tantissimo Quaggiù no ma guardate che bellezza Questo è fantastico Quaggiù abbiamo il manuale di istruzioni Ancora QR code con l'applicazione da scaricare Tutto questo manuale lo troverete in maniera digitalizzata Con tutte le video istruzioni Ma questo dopo Io per ora non c'ho Perché devo ancora registrarmelo Manuale peraltro stampato a colori All'interno un portachiavi Del meccanè con l'anellino Guardate che carino Il set di brugole Sia per la manutenzione Che probabilmente per montare Con le vitine che dobbiamo montare Le troviamo qua giù Questa è una figata Cioè questo portachiavi meccanè In realtà è il pezzo della pedana ritagliata Che adesso lo vedremo Cioè è stata tagliata E qua giù ti fa vedere Come è stata ritagliata Quindi il pezzettino in cui viene ritagliato La parte dietro E il pezzettino per non buttarlo via Ci fanno un portachiavi Fantastico Veramente fantastico Sotto troviamo il caricabatterie Molto semplice Un po' piccolino Però devo dire la verità Questa marca qua giù la conosco Ed effettivamente è una delle migliori Che si trovi in commercio Bene non ci resta che mettere questo da parte E tirar fuori il monopattino Io vedo delle cose Che sono veramente fantastiche Di cui oggi vi voglio parlare Qualcosa che magari Poteva essere migliorato Qualcosa di veramente figo Dunque Cosa che poteva essere migliorata Questo viene effettivamente bloccato Però quando sono andato ad aprirlo Ciotolava un po' Per cui potrebbe graffiare il tubo Si può rivedere Però veramente Cosa figa Il connettore Non è di tipo waterproof Tuttavia È ugualmente siliconato Per resistere All'acqua Quindi Anche a muoversi Connettori Che non si rompono Tuttavia Non è di tipo waterproof Il che però Da un lato È anche meglio Quando bisogna andare A attaccarlo In questa maniera Perché Non c'è il rischio Di sbagliare Il verso Mentre quelli waterproof Sono tondi Per cui si potrebbe girare così E andare a piegare i pin Questo tipo di connettore In realtà è dritto Non si può sbagliare Si va ad inserire Proprio in maniera corretta Dritta In realtà C'è da dire una cosa Che Se proprio si volesse Fare i pignoli Uno potrebbe anche Andare a sbagliare E a metterlo in questa maniera E quindi spaccare tutto Per cui Ecco Magari Poteva essere Migliorato Ancora meglio Sulla tipologia Però ovviamente C'è la guida Quindi Chi mastica Connettori È una cosa Che troverà Sicuramente facile Diversamente Questo tipo di monopattino Comunque si trova Da anche Da rivenditori Che potranno Farvelo trovare Già bello e montato Osservate La guida Per tenere fermo Il cavo E non farlo muovere A giro Cosa che invece Di solito È molto molto Fastidiosa Quaggiù abbiamo La guarnizione Del blocco Una guarnizione Che è anche Un po' troppo spessa E quindi rimane Un po' sporgente Diciamo che Avendolo aperto così Si può notare Sotto sopra Il piantone E si può andare A vedere Alcune rifiniture Che magari Potevano essere Migliorate Come ad esempio Le viti Delle frecce Ma stiamo parlando Di un monopattino Che comunque sia Già la dotazione Di serie Delle frecce Che qui risulta A norma Ottimo Quindi io lo vado a chiudere Mi sembra veramente Molto semplice Dobbiamo solo andare a chiudere Le viti Quindi sono state date Cinque viti Per quattro In realtà che vanno messe Quindi Ce n'è anche una di scorta Ottima Il piantone Il piantone Il piantone viene bloccato Davanti e dietro Il che non è male Quando si va A guidare Qui Questa cosa Questa cosa Va migliorata C'è l'asse Che va riallineato Ma è stata data La brugola Sicuramente Per poterlo Riallineare Vedete che Mi è arrivato Nuovo Ma il manubrio Sarà in questa direzione Quaggiù E la ruota Invece Rispetto a questa direzione Per cui c'è un angolo Che non torna Va serrato Laggiù Il manubrio E adesso Lo serriamo Però guardate Anche il perno Dietro Che perno di qualità Le ruote Già piene Lo faccio vedere Da vicino Dai Ok Adesso che ve l'ho fatto vedere Non mi resta che montarle Guardiamo quanto ci mettiamo Le viti arrivano già Con un minimo Di frenafiletti Sopra la vite Per più di togliere La vibrazione Questa procedura Non è proprio Semplicissima Magari una piccola Tacchettina Quaggiù Per capire meglio L'allineamento Poteva agevolare Tutto quello Che è stato Il lavoro Perché diversamente Una persona Senza manualità Non so Se troverebbe Così semplice Fare questa Stessa procedura Appunto Primo perché Le brugole qua giù Sono molto più Grosse Molte più dure Punto secondo Perché non essendoci Il punto di allineamento È molto a occhio E c'è il classico errore Di parallasse Che a prendere Se ti metti Con un occhio O con l'altro Dove ti metti Potrebbe risultare storto Cosa che mi piace tantissimo Solo a vederla esteticamente E so già che sarà Un compromesso fantastico Anche perché C'è l'app E me la sono già studiata È il fatto che È il fatto che sia dotato Di freno elettrico Da questo lato qua giù Più freno meccanico Da quest'altro lato Lato da giù Che a sua volta È anche elettrico Perché ha il sensore Per stoppare Per cui si può Tramite questo controllo Andare a modulare La quantità di frenata Elettrica Ora mi studio un po' Sull'app Se si può anche Escludere fare tutto Con la sola leva freno E capire un po' Però è una cosa Che sicuramente È un compromesso Fantastico e innovativo Perché mentre tutte Le ditte Comunque sia Ti permettono di frenare E poi tramite app Devi gestire Quanto freno Dargli o meno Quaggiù si può andare a fare Modulandolo esternamente In più c'è Il modulino di ricarica Che anziché essere sotto La pedana Che tutte le volte Ti devi chinare È messo qua sopra Per cui si può andare A ricaricare Il monopattino Direttamente da qua giù Anche questo Mi piace tantissimo Frenata Forse va un po' Rivista anche questa Che vedo che piega il disco Già che ci sono Prima di partire Facciamo anche questo Controllino qua giù Così vi spiego Come si fa Prima di partire È opportuno Verificare se il freno Lavora in maniera corretta Questo è un freno A disco meccanico Che ha quindi Una pasticca Che rimane fissa Più una pasticca Che si va a muovere Noi la prova Che dobbiamo fare Prima di andarla A utilizzare È andare a pinzare Il freno E vediamo che il disco Si muove Questo non è buon segno Vedete questo movimento Del disco Non è assolutamente Un buon segno Vuol dire Che sta lavorando male Cosa vuol dire Che la pinza Abbiamo una delle due Pasticche Che rimane ferma E questa che invece È quella in movimento Che va a spingere Il disco In questa maniera L'unico modo Che possiamo andare A risolvere È spostare Questa pasticca Più in qua Per far battere Vi faccio vedere Come si finisce Procuriamoci La brugolina necessaria Dopodiché andiamo a lavorare Non sul lato Del filo Da tirare Non andiamo a lavorare Su questo Questo registro Qua giù Lo lasciamo Con proprio Un giro Di larghezza In maniera tale Che ci possiamo Minimo muovere E andiamo invece A lavorare Sulla pasticca Che rimane ferma Portandola Tutta attaccata Al disco Quindi la andiamo A muovere È molto dura In realtà Da qui Non è proprio Semplicissima Ma con la mia forza Ce la faccio Vado quindi A spostarla Tutta appiccicata In questo momento È molto dura Infatti Non si dovrebbe Quasi muovere La ruota Da quanto è dura Dopodiché La vado ad allentare Quindi a risvitare Dovrebbe bastare Mezzo giro Ma anche un quarto Dipende ovviamente Da quanto margine C'ha E rivado a pinzare Vedete che adesso Già Il disco Non si muove Più di tanto Molto molto meglio Rispetto a prima Ma dobbiamo vedere Che sia fluida Perché se no Mi fa attrito Per cui è bastato Veramente pochissimo Per sistemarla Ottimo Allora Già che ci sono Vi dico anche questo Che vabbè La parte dietro È ammortizzata E lo so Cosa vi state chiedendo È la finta copia Xiaomi Con una pedana In legno Sopra Adesso Lo andremo a vedere Sul sito Parlavano Di gomme piene Senza possibilità Di montare Il tubeless O montare La camera d'aria In realtà Quaggiù vedo Che è stato fatto Un foro È stato fatto Un po' bruttino Onestamente Però il fatto Che ci sia un foro Mi permetterà Di montare La camera d'aria Qualora la volessi Anche qua giù Vediamo Che abbiamo Il foro Per cui Sul sito c'è scritto Di no Che non è possibile Mentre invece È possibile Montare la camera d'aria Dunque ovviamente Alla Xiaomi Ci assomiglia Perché in molti Vanno a copiare Quel telaio Ma Sono quasi sicuro Che non sia così Vedo delle rifiniture Che mi piacciono Vedo qualcosa Che potrebbe essere migliorato Ma non resta Che fare una prova Su strada Per capire Quello di cui abbiamo Sotto mano Già Se ti piacciono Contenuti di questo tipo Recensioni di questo tipo E credi Che ci voglia Un po' di freschezza Rispetto alla classica Recensioni un po' pallose Che si trovano in giro Iscriviti al canale Se già non sei iscritto Non resta che accenderlo E provarlo Oh Fighissimo Credevo fosse Molto più in bianco e nero In realtà È un po' a colori Cioè ci sono svariati colori Varie funzioni Ok Quaggiù abbiamo Le varie potenze Le frecce si attivano In automatico Basta solo premere qua giù Le ripremo Le disattivo Ok Quaggiù Non abbiamo Adesso devo un po' provare Ovviamente Ho provato di più E ovviamente Sono sull'erba Dove Ok Che la pedana è di legno Ma non è Veramente il suo Habitat ideale Soprattutto con le gomme piene Per cui tende un pochettino A bloccarsi Non sento una potenza Super mega Aggressiva Adesso però vediamo Se possiamo regolare Anche dall'app Il display Mostra Mentre andiamo La potenza Che viene erogata Con una barrettina Che indica Da verde Se non mi sbaglio Fino a rosso Quindi verde Giallo e rosso Ok La cosa che Più mi piace È la morbidezza Con cui parte Morbidezza Che vi devo dire La verità Non ho trovato Su nessuno Xiaomi E tutti i monopattini Che ho provato Comunque si attendono A fare quel Sarà che io sono anche 110 kg Solitamente supero Il limite Di ogni monopattino Mentre su questo Assolutamente Non sento Questa tipologia Di cosa Questo monopattino Nasce limitato A 25 km orari Ma assomiglia molto A un altro monopattino Che conosco E sono quasi certo Che si possa sbloccare La ditta Se glielo mandate E firmate Un disclaimer Ve lo sblocca E ve lo rimanda A casa In pochi giorni Già tutto sbloccato Il che mi piace molto Perché permette Alla ditta A livello di assistenza Di segnarsi I codici seriali E seguire quindi meglio Tutta la storia Di quel monopattino E questo a me Piace davvero Tantissimo È un monopattino Che A prescindere poi Dai risultati Che vedrò Dalle varie cose Che sicuramente Avrà pro e contro Sicuramente Sarà un compromesso Non sarà un monopattino Elite Non sarà un monopattino Top di gamma Perché comunque Sia la cifra È contenuta Ma un monopattino Di qualità Soprattutto Quello che mi piace Il fatto che sia innovativo Non sto cercando Un monopattino Che sia perfetto Che non si rompa Ma un monopattino Che sia all'avanguardia Qualora si dovesse rompere E questo Mi sembra Che siano Sulla buona linea Ripeto Un po' di cose Potevano essere migliorate Ma ci passiamo Decisamente sopra Adesso Lo vado a provare Un po' in giro Ok Allora Ho iniziato a navigare Un po' Sull'app Per studiare Un attimino C'è ovviamente Il limite di velocità Che vogliamo Nelle varie funzioni È impostato a 20 Ma lo possiamo impostare Fino a 25 km orari In più Si può andare A sbloccare Ma per Lo sblocco Bisogna andare Quaggiù E farselo dare Molto carina questa cosa Vuoi sbloccare La velocità Il tuo codice Univio Che ha chiesto E questo Richiedi Il codice di sblocco Ma un'altra funzione È la risposta In freno E la risposta In acceleratore Che per ora È su 1 Ma mi permetterà Di regolare meglio La frenata Ora io lo imposto Così a 10 E poi Mi studia un attimino Come funziona Possibilità di attivare Non attivare le luci Il cruise control Le varie velocità Cambio della password Che inizialmente È 888888 Modalità di partenza Si può mettere anche Partenza istantanea O partenza spinta Quindi si può far partire Anche da fermo Aggiornamento software Per aggiornarlo E varie altre funzioni Mi sembra Mi piace Qui è la La cosa essenziale Ti farà capire La potenza La velocità Le luci Possibilità di accenderle Da qui Molto figa la cosa Di bloccarlo Le varie modalità Questo è il cruise control On off Dettagli Posso vedere Le distanze Tifonora Percorse La corrente Anche di assorbimento Figa Questa cosa Ora la provo La versione Distanza parziale Percorsa Che non si può Resettare Mi sembra di capire Quindi rimane Immagazzinato Comunque sia In memoria Allora Questo è il portachiavi E questa è la parte Che loro dicono Di provenienza Di Questo ritaglio Ora in realtà Qui le righe Sono verticali Qui orizzontali E uguale Qui è orizzontale Quindi teoricamente Dovrebbe essere messo Per così Che come dimensione Forse ci sta Si ci sta Però esce un po' fuori Quindi è un po' più lunga Però vabbè Ci sta che abbiamo fatto Un ritaglio Di più materiale Quaggiù La parte antiscivolo Qui invece Non è antiscivolo Per nulla Ben sicillata Quindi rimane ben fermo Adesso proviamo Anche il blocco Che in questo monopattino È posizionato Quaggiù Ed è rigido Di metallo Quindi Molto molto Resistente Non sono del tutto Convinto su questo freno Che mi piace Ma non ho ancora capito Se mi piace Del tutto Voglio essere un po' sicuro Sicuramente c'è una doppia Impostazione di guida Si può frenare Come sul Ninebot Per intendersi Con acceleratore E freno regolabile A parte O come su altri monopattini Con il freno Davanti Suppongo che questo Abbia la stessa funzione Di questo Non so Se è una funzione diversa Però magari Ha la doppia funzione Posso scegliere io Come andarlo ad attivare Il che Non mi dispiace Devo dire La verità Non mi dispiace Nemmeno il tastino Come tocca Quaggiù Come è rifinito Ogni parte C'è un po' di Movimentino Qui Un pochino di movimento C'è Devo dire la verità Qui come è rifinito Non mi dispiace Ecco Questi fili Ovviamente Il filo del freno Ci deve stare Per l'amore di Dio Però Se proprio Devo essere un po' pignolo Quaggiù Si potevano passare Un pochettino meglio Perché è un po' bruttino Da vedere Questa cosa qua giù E ancora più bruttina E questa cosa qua giù Il cavo Qui che passa Rifinito Mi piace molto Questo cavo Della luce Non mi piace Anche perché Qui abbiamo Queste placchette Che sono più alte Rispetto allo Xiaomi Che di solito Ha solo questo pezzettino Qui arriva la placchetta Fino a qui Si poteva nascondere Forse questo In maniera un po' Meglio Ecco anche il cavo Del motore Proprio così Non mi piace appunto Questo devo dire La verità Non mi entusiasma Non è che Chissà cosa Però Poteva essere Un attimino rivisto Questo piantone L'ho già rivisto Su altri Monopattini Non è male Ha il doppio sistema Di chiusura Però secondo me Da un monopattino Che comunque sia Non è nemmeno Entri level Ci si poteva aspettare Qualcosellina di più Anche perché La piastra è un po' Più larga del piantone E quindi si poteva Aspettare un pochino di più Però Sicuramente Lato positivo Il fatto che ci sia Il ricambio intercambiabile Perché appunto abbiamo Le viti sia davanti Che dietro Un'unica vite Forse un po' pochina Non lo so A tenere A tenere questo piantone Comodo Comodo Quaggiù rimane molto largo Il manubrio Che a livello di guida Da molta stabilità Per la sua larghezza In realtà A livello di trasporto Da molto ingombro Quindi Questo È una cosa Che anche qua giù Si poteva andare a rivedere Per riaprirlo Dobbiamo andare a rialzare Noi Questa linguetta E poi andarla A riappoggiare Molto molto belle Le due Rinforzi Molto resistenti Peralti Del parafanghi Cioè si può Sollevare tutto Da qua giù Queste due linguette Molto resistenti Non come quelle Un po' ciotoline Degli Xiaomi Quindi Questo è un punto Molto a favore Perché molti altri Monopattini Invece Non avendo Le stacchette Quaggiù laterali Quando si va a sollevare Si rischia di troncarsi Il parafanghi Dietro Cosa che invece Quaggiù Mi sembra Molto Molto più sicuro Abbiamo Un ammortizzatore Sotto Quaggiù Nella parte Dietro Un telaio Bello rinforzato Quaggiù Lo vedo Poi lo andremo Ad aprire E delle strisce LED Nascoste Qua sotto Quindi Al buio Si va anche A illuminare Batteria Molto molto capiente 36 volt 11,6 Amperora Quindi A livello di numeri Molta autonomia Vediamo però Su strada Dopodiché Andiamo a fare Una prova Di illuminazione Notturna E infatti Questo monopattino Ha una particolarità A proposito Questo video è venuto Leggermente lunghino Per cui lo interrompiamo qua Che già è abbastanza pieno Ma per provare Questo monopattino E per provare Altri veicoli Ho studiato Un percorso adatto Che ne riproduca Tutte Ma proprio tutte Le condizioni stradali Solo che Lo vedremo Nel prossimo video Rimanete Aggiornati Guardate Campanellina Noi ci vediamo La prossima Molto Buongiorno 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 Buongiorno